Emanuele Jasi La palla in aria, Manai, sterza e calcia! Manai! Manai, 2-0 Spezia! La scicolata ci crede, salva Ferrerra, non c'è farlo, valla in mezzo, Jasi! 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 2-1, rimonta Spezia! Poi prova a controllare il pallone maggiore, conclusione di Bastoni! Pallorete, Spezia in vantaggio al tredicesimo! Gran gol di Simone Bastoni! Trova lì vicino Sala, guarda la porta! Sala! Torna a segnare Jacopo Sala! Lo Spezia è in vantaggio! Serviva una giocata! E quella di Sala! Gran botta! E' uno a zero! Pottoreani muove bene, poi il tocco per Kovalenko! Conclusione! E Spezia in vantaggio! Kovalenko! Al settantaseiesimo! La gioia dei tifosi per la sventola! Kovalenko! Poi, altro colpo di testa, forte, lotta con Burabia, che è la meglio, ancora Burabia per via centrale, vincevano in pallo, Burabia pensa al tiro! Conclusione rete! Lo Spezia passa al novantaquattresimo! Bastoni, verde, il tiro verde! Trova proprio il novantesimo! Un gran gol! Il gol del 2-1 che però servirà a pochissimo! Alla in mezza, diventa buona per Maggiore! Maggiore! Il gol di un interista all'Inter! Maggiore rimette lo Spezia nella partita! Bastoni, il cross in mezzo, pallone che arriva verde, controlla, cerca il tiro in porta a sinistro! Maggiore! Cosa ha fatto Daniele Verde? Un gol fantascientifico, un gol da 10! Maggiore!